Ciao, benvenuti in questo nuovo video della Tuttec. Oggi trattiamo l'argomento che è un po' più spinoso per quanto riguarda i nostri dispositivi domotici. Parecchi si domandano, ma la privacy su questi dispositivi, in che modo può essere gestita? E oggi vi faremo vedere come poter entrare nel menu della app del nostro dispositivo domotico di Amazon e poter gestire determinate voci. Ma nel frattempo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, in modo da essere avvertiti ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Ma prima di poter raddentrarci nei meandri dell'applicazione di Amazon, entriamo nella nostra sigla! Questa sezione serve per poterci far abilitare, disabilitare o cancellare determinate informazioni sulla privacy che non vogliamo che Amazon riceva. Questo farà sì però che limiteremo il modo di imparare del nostro eco. Andiamo per ordine e vediamo la prima voce. Rivedi la cronologia voce. In questa sessione, come potete vedere, per adesso non ho nessun record. Possiamo vedere che cosa dà come possibilità di visualizzazioni, quindi oggi e tutti i dispositivi. Aprendo la tendina, possiamo filtrare per giorno, quindi oggi non c'è nulla, possiamo andare su ieri. Ed ecco che compaiono tutte le azioni che abbiamo richiesto al nostro eco. Tornando indietro, possiamo filtrare anche per dispositivo. Quindi possiamo dire su tutti i dispositivi, oppure su ogni singolo dispositivo presente nella nostra flotta di eco, passatemi il termine. Altra voce sotto che compare, l'eliminazione di tutte le registrazioni fatte da ieri indietro nel tempo. Quindi cancellerà tutto quello che è stato detto. Però ripeto, questo andrà ad inficiare, da parte del nostro eco, l'imparare nuove nozioni. Ma dopo lo vedremo un po' più nello specifico. Prendiamo ad esempio una voce a caso. La possiamo aprire. Tutte le voci che vedete possono essere aperte a tendina. E abbiamo la possibilità sia di rimuovere la registrazione, con il tasto rosso, rimuovi registrazione, il cestino, che andare a fare una valutazione di ciò che ha compreso il nostro eco. Se io ad esempio gli ho fatto una domanda di cultura generale, piuttosto di curiosità, e mi ha risposto in una maniera che secondo me non è consona alla risposta che io volevo, possiamo dare il pollice in giù. Se invece la risposta è stata corretta, vi pollice in su. Tutte queste informazioni arriveranno direttamente al cloud di Amazon, verranno analizzate, e in caso di risposta negativa da parte nostra, implementate e verrà insegnato qualcosa in più al nostro eco. Questa secondo me è una funzione molto importante, per poi dopo poter avere, tra un po' di tempo, un dispositivo eco in grado di poter dare molte più risposte. Un po' come il suo diretto concorrente Google, che naturalmente ha una piattaforma dalla quale attingere quasi infinita. La rimozione della registrazione è utile anche se per caso, porto un esempio banale, vogliamo fare un regalo di una persona che è in famiglia, che vive in casa con noi, e facciamo una ricerca sul nostro dispositivo eco. Questa ricerca viene salvata sempre qui, e se la persona che deve ricevere il regalo va a vedere tra le varie informazioni, potrebbe vedere che noi abbiamo fatto una ricerca su un determinato oggetto, e magari svelare, spoilerare, come si dice oggigiorno, qualcosa che noi invece vorremmo tenere celato fino all'ultimo secondo. Quindi ci basterà semplicemente cliccare su rimuovi registrazione, e verrà eliminata. Altra cosa che posso andare a verificare, mi capitava più che altro all'inizio, qualche tempo fa, che il mio eco si attivasse da solo. Leggendo un po' in giro, sulle varie piattaforme, su internet, che la televisione, piuttosto che la radio, piuttosto che conversazioni fatte vicino al nostro dispositivo, potevano far sì che captasse la parola di attivazione, cosa che magari invece non era così, ma veniva fraintesa dal nostro dispositivo. E io da qui posso andare a vedere se per caso ha recepito quella frase come una frase di attivazione. Fortunatamente nel periodo, nel breve periodo, non sta più capitando. Anzi, devo essere sincero, rispetto a tanti altri che dicono che è completamente sorda, devo dire che il mio dispositivo, ogni qualvolta la chiamo, risponde celermente. Se poi non vogliamo andare nell'applicazione per poter cancellare le registrazioni vocali, ma vogliamo dare l'input direttamente a voce, ci basterà tornare indietro, gestisci i tuoi dati relativi a voce, e qui abilitare l'eliminazione vocale. Una volta abilitata questa funzione, potremo dare il comando direttamente al nostro dot, il quale provvederà a cancellare. E come viene indicato, consente di eliminare la registrazione dicendo cancella quello che ho appena detto, oppure cancella tutto ciò che ho detto oggi. Come vi dicevo prima, nella prima voce registrazione vocali, ci spiega che il fatto di poter registrare ciò che noi diciamo, aiuterà sicuramente a comprendere meglio delle richieste personalizzate che noi facciamo al nostro eco. Possiamo anche decidere di scegliere per quanto tempo salvare le registrazioni, ed entrando in questa voce, mettendo il fleghettino su ciò che noi vogliamo che registri. Quindi finché non le elimino io, per 18 mesi, 3 mesi, oppure non salvare le registrazioni. Io non abilito il flag dell'eliminazione vocale perché voglio decidere io quando andare fisicamente a guardare che cosa ho detto, come ha risposto, in modo tale che posso anche dare delle votazioni ed aiutare Amazon a far progredire il mio dispositivo. Come avete visto ragazzi, il mondo di Amazon non è poi alla fine così oscuro come parecchi ci vogliono far credere. C'è la possibilità di poter entrare e gestire determinate informazioni. Certo è che possiamo anche decidere di non far inviare informazioni dal nostro dispositivo, ma come avete visto poi siamo un po' più limitati per quanto riguarda le configurazioni e l'apprendimento del nostro dispositivo Amazon. Poi naturalmente ognuno ha la propria idea inerente, la privacy e la gestione di informazioni che possono essere inviate anche per quanto riguarda l'apprendimento. Quindi liberissimi di decidere se attivare o disattivare determinati flag o cancellare informazioni. Detto questo ragazzi speriamo che il video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!